Un anno fa ci eravamo incontrati con la speranza di rivederci poi a breve, dopo aver contattato dei tecnici che ci potessero dare una mano. Avevamo coinvolto l'associazione Bassano Accessibile, l'amministrazione e l'idea era quella di coinvolgere anche i commercianti e le aziende del centro, proprio per aiutarci a migliorare il tutto. Dopo un anno siamo ancora qui che aspettiamo. A parlare Domenico Riccio, portavocere il PD bassanese, ma soprattutto un bassanese che vuole vedere la sua città a misura di tutte e tutti, con barriere architettoniche ridotte al minimo, se non assenti del tutto. Ma come ormai sta accadendo tante, troppe volte... C'era stata una promessa di attivarsi e fare qualcosa, per il momento però non è ancora nulla di fatto. La lotta alle barriere architettoniche dovrebbe essere una delle priorità non a parole, ma a fatti della sindaca Elena Pavane e della sua giunta. Non ci sono scuse a quest'immobilismo, dice Riccio. È da più di un anno che aspettiamo per questo tema, ma in realtà sono tanti i temi su cui questa amministrazione è latita. Capiamo che ci sono i festeggiamenti per il ponte da preparare e i festeggiamenti da fare, però c'è una città che deve andare avanti. Deve andare avanti, ma soprattutto deve essere portato avanti il sogno di Beatrice, la nostra guerriera che tanto ha fatto per la sua Bassano. La sua scomparsa a soli 14 anni non deve far finire tutto nell'oblio, ma è dovere di tutti continuare a lottare per rendere la città, i pieri del grappa, una città davvero inclusiva. Avevamo iniziato questa collaborazione con l'amministrazione proprio quando avevamo sentito dell'episodio della chiesetta dell'angelo. Ricorderete anche voi, eravamo nel dicembre 2019 e Beatrice era stata costretta a non prendere parte al saggio di Natale con i suoi compagni di scuola perché con la carrozzina non riusciva a salire gli scalini della chiesetta dell'angelo. Una triste vicenda che riportammo nei nostri Tg, la cui eco ancora oggi si fa sentire. Lì come PD avevamo deciso di tendere la mano, di dire mettiamo da parte le rivalità politiche e lavoriamo per il bene della città. Bisogna dare continuità a tutto quel lavoro e bisogna fare tanto perché l'idea di Beatrice di avere una città inclusiva per tutti non resti soltanto un'idea. Sarebbe uno schiaffo alla memoria di questa ragazzina coraggiosa, uno schiaffo alle tantissime persone che come Beatrice, come Domenico, non intendono rinunciare a vivere appieno la loro città. L'appella alla sindaca Pavane è chiaro. Rendere il centro città, la parte viva della nostra città, accessibile a tutti e non soltanto un privilegio per chi è un ormo dotato. Non chiedono la luna, solo un impegno concreto perché la gente stufa di parole, promesse e fumo. Ci vogliono fatti, tutti insieme, lavorando in squadra, unendo le forze, idee e progetti, è possibile. Sarebbe bello se per una volta la prima cittadina scendessero al suo piedistallo e ascoltasse chi le chiede di essere davvero la sindaca di Bassano.